Bene ragazzi e benvenuti qui sul mio canale, oggi siamo qui in questo nuovo video vlog Allora in realtà questo video non lo volevo fare, però volevo portarvi un video su GTA V Infatti, cioè, ho già la Playstation accesa così Però non ho, non so cosa portarvi, non ho idee, quindi Ho detto, vabbè dai, visto che sono qui, non sto facendo niente, registriamogli un video E per spiegarvi che cos'è che farò Allora, oltre al caldo incredibile, infatti ho il ventilatore acceso Quindi se vi dà fastidio non ci posso fare niente, ma non voglio morire in camera Praticamente questo video qui è il video precedente Lo vedrete quando io sarò in Sardegna Come vi avevo appunto promesso in una live o in un altro video, non mi ricordo Mi sono messo lì di impegno oggi e un po' ieri A registrare due video, renderizzarli e caricarli Che poi questo qui lo sto ancora registrando Sono le 6 di sera, io parto alle 3 di notte In macchina Poi vado a Livorno, a Livorno ho l'imbarco Andiamo in Sardegna e poi andiamo al villaggio Quindi dicevo, questi video ve li sto registrando prima di partire Anzi, facciamo così, questo video ve lo metto prima del video su GTA Perché in teoria dovevo uscire prima l'altro su GTA Che l'ho già caricato e l'ho già programmato Però in teoria dovevo registrare un altro video su GTA Però è meglio che vado sul sicuro su un video così Quindi questo qui lo vedrete il 30 30, sì, mi sembra il 30 Aspettate che ci guardo No, questo video qui voi lo vedrete il 31 Invece quello su GTA lo vedrete il 3 3, il 2 o il 3 comunque Quindi vi, in poche parole non ho, non, non, non Cioè non so cosa fare, ho un po' fretta anche perché come potete vedere qui Qui vedete C'è tutta la roba che sto preparando da mettere in valigia Sono in ritardissimo Infatti mi devo dare una mossa Perché comunque devo ancora montare questo video Renderizzarlo, far la copertina, caricarlo E io in realtà fra due ore Due ore e mezza massimo vorrei andarmi a letto Per appunto svegliarmi alle 3 Cioè che devo partire Il video della Sardegna Che ormai siete abituati Che vi porto con me in tutti i miei viaggi Praticamente non so se lo fa Cioè sicuramente faccio qualcosa Perché qualcosa faccio La GoPro è già qui pronta Che la, cioè me la prendo dietro come sempre E qualcosa faccio però non so di che tipo Cioè proprio non, non ne ho, non ne ho proprio idea Poi se volete rimanere molto ma molto più aggiornati Vi consiglio di seguirmi su Instagram Perché carico diverse Instagram stories Vi consiglio tantissimo di andarmi a seguire su Instagram Dopo ragazzi apro una parentesi Allora praticamente Praticamente questa ragazza ha chiesto di essere salutata in un mio video E io risposto certamente al prossimo video che faccio Ti posso salutare Allora innanzitutto saluto questa ragazza Che mi ha chiesto di essere salutata E si chiama Clara Ragazzi per essere salutati come questa ragazza Basta che andate sotto il mio ultimo video Possibilmente il mio ultimo video Perché così sono più comodo a leggerli Scrivete mi saluti così E poi naturalmente dovrete essere iscritti al canale Poi vi saluto tranquillamente Quindi ragazzi se il video è vincito lasciate un mi piace Commentate qua sotto per nuove challenge gameplay da portare sul canale E niente Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale E niente Ciao